Buongiorno signor Cangelosi Chi è? Buongiorno Come stiamo oggi? E come stiamo? Cos'è cos'è? Posso farle una domanda? Certo Ma da quanto tempo è che hai ricoverato qui? Mi dice che io praticamente sono venuto nel 1977 Per farmi un normale controllo della pressione Poi mi hanno fatto quello della glicemia Poi un altro esame del colizzerolo Un esame tiralaggio, un controllo tiralaggio per precauzione Arriviamo qua Ah, un'altra domanda Ma le condizioni igieniche com'è qui? La pulizia? La pulizia, io per questo mi ci trovo bene Qui c'è odore proprio profumo Sono puliti, non ci possiamo lamentare Anzi forse c'è troppa pulizia Pure se un zio Totò poco fa mi ha detto Signor Cangialosi ha visto un pappagallo Ho detto Ho visto gatti Scarafaggi Due topi Ma pappagallo non ne ho visti Ma come? Ma lei mi sta dicendo che allora ci sono i topi in questo ospedale Topi? Topi? Sì, un zio peppino nella barella alla mia destra là sotto Sta allevando due succe di connotto di questa puntata E gli ho detto appena fa a cucciolata uno muruna Ma queste sono cose da pazzi Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa da pazzi? Mi scusasse Pronto? Cettina Sì A mia sorella Sì Mi deve venire a trovare Ho detto che qua si entra all'una fino alle due E dalle sei fino alle sette E c'è l'entrata Ah Ah non potete venire E allora manco Non potete venire Vabbè Non ti preoccupare Vengo io Vi vengo a trovare io Segui tassi Chi c'entra tassi Ma che fai Con l'ambulanza Ma perché non ho le chiave dell'ambulanza qua io Ma ho le chiave Vengo io